L'idea di tutto l'oro che c'è è un'idea che ha un po' a che fare con una questione autobiografica, nel senso che io sono nato sulle sponde piemontesi del fiume Ticino e ho vissuto lì praticamente fino a 17 anni. Poi sono tornato a vivere con mia moglie e i miei figli, all'epoca uno di quelli che adesso sono due figli, a vivere sulla sponda lombarda del fiume. Tra l'altro con questa particolarità, coincidenza, che è proprio nello stesso tratto di fiume. Quindi una delle cose che mi ha colpito subito quando ho tornato sulla sponda lombarda, ho ricominciato a frequentare il fiume, era che io mi sono ritrovato a molti anni di distanza da quando frequentavo il fiume con mio padre da bambino e vedevo il fiume scorrere da sinistra verso destra, mi sono ritrovato in una dimensione spaziale nuova, cioè sul fiume ma che scorre da destra a sinistra, guardandolo dall'altra sponda, e ovviamente anche in una dimensione, definiamola così, esistenziale nuova, nel senso che non ero più il figlio ma ero il padre. Quindi da questa cosa, da questi pomeriggi con mio figlio al fiume, è nata l'idea di un film che potesse provare a raccontare come nel corso della nostra vita sia necessario, ovviamente a mio modo di vedere, che sia necessario cambiare continuamente il nostro sguardo, cambiare continuamente la prospettiva. Da lì è arrivato un secondo personaggio del film, che è il cercatore d'oro, Rinaldo Molaschi, cercatore d'oro di 75 anni che ha passato tutta la vita sul fiume a cercare l'oro, e che ho cominciato a seguire, non tanto nella sua attività giornaliera di cercatore d'oro, perché quando il film è nato lui in realtà non cercava più l'oro tutti i giorni, ma lui è diventato una specie di guida, di vulgatore di questa antica pratica, tra l'altro oggi ritornata in auge con la crisi economica, e soprattutto però lui è quello che mi ha raccontato la storia del fiume. Quindi da questi due incontri con Filippo e con Rinaldo, l'idea di fare un film che potesse mettere in campo questo cambio di sguardo.